La Calabria è la prima regione in Italia con una piattaforma digitale per l'edilizia. Da lunedì 28 settembre i cittadini, le imprese edilizie, i tecnici di settori comuni e numerosi enti potranno beneficiare di una piattaforma informatica che finalmente semplifica e unifica attraverso il digitale atti e procedure burocratiche favorendo anche l'attivazione nei municipi calabresi dello sportello unico per l'edilizia. Calabria è efficiente e trasparente. La regione Calabria ha offerto gratuitamente il servizio anche ai comuni che per problemi di bilancio non erano stati in grado di recepire quanto disposto dalle norme nazionali. L'avvio del sistema telematico Calabria Su e della rete degli sportelli unici per l'edilizia ha registrato la soddisfazione del presidente della regione Iole Santelli che ha dichiarato Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo importante risultato che ci dota di una piattaforma telematica per la gestione delle pratiche edilizie. Una burocrazia efficiente e condivisa con nuovi sistemi tecnologici ci permette di avere una Calabria più efficiente e veramente trasparente. Settore vitale dell'economia Le nuove case digitali, conclude la Santelli, ci aiuteranno a migliorare quelle di mattoni che si costruiranno con passaggi condivisi che saranno utili a fermare abusi e illeciti. L'imprenditoria in un settore vitale della nostra economia avrà tempi più spediti per realizzare gli investimenti senza essere strangolata dai lacci e lacciuoli che hanno bloccato il mercato e l'iniziativa dei cittadini.